Ho il piacere di presentarvi stasera il professore Alessandro Lupo, il professor Lupo insegna etnologia presso l'Università di Roma La Sapienza dove dirige la missione etnologica italiana in Messico che svolge ricerche sul campo in territorio, sul territorio appunto fra varie etnie e grazie al suo lavoro sul territorio ha ricevuto la decorazione dal governo messicano l'Aguila Zeca, inoltre appunto la sua bibliografia sull'argomento è sconfinata nella società e ha un altro suo ruolo all'Università, presiede la laurea magistrale in antropologia, per cui oggi siamo molto felici di ascoltarlo, grazie. Grazie a voi, buonasera, buon anno e grazie di avermi invitato da un po' intruso, nel senso che io non sono un archeologo, non sono uno specialista di Teotihuacan, quindi non dovrei in realtà essere qui a parlare di Teotihuacan, se lo faccio è perché Teotihuacan non è solo passato ma è anche presente e quindi quello che cercherò di dirvi questa sera è qualcosa che riguarda in parte mie esperienze di ricerca diretta, in parte mie letture e dialoghi, confronti con colleghi che si occupano delle nuove forme di religiosità indigena in Messico e vedremo che Teotihuacan è un centro dove questa religiosità indigena è ancora ferma. Teniamo presente che appunto il passato archeologico non è mai un qualche cosa di inerte, un qualche cosa di atrofico, anche se viene spesso monumentalizzato, circondato da fili spinati a protezione dei manufatti, però è sempre un qualche cosa di vissuto, sta all'interno di tessuti urbani, sta all'interno di realtà sociali presenti sul territorio, oltretutto nel mondo indigeno messicano il passato archeologico, non è il caso di Teotihuacan, ma per esempio è il caso delle grandi piramidi di Città del Messico, è cronologicamente molto più vicino al nostro presente etnografico. Il passato archeologico asteco, tanto per dire, risale al Rinascimento, risale al Cinquecento e di conseguenza noi oggi ci troviamo, nel mio caso personalmente io mi trovo, a fare ricerca presso popolazioni che sono diretti discendenti di quelle genti che nel Cinquecento furono conquistate e sottomesse dai conquistatori spagnoli, ne parlano la lingua e ne portano ancora molti aspetti culturali. Di conseguenza questa continuità può portare a una forte prossimità anche culturale con le proprie vestigia del passato, che d'altronde sono sempre riutilizzate, sono sempre riinserite dentro contesti sociali. Ne sappiamo qualcosa noi italiani che per esempio a Siracusa abbiamo un tempio greco che è diventato una chiesa a tuttora pienamente vitale, la cattedrale della grande città di Siracusa. Vediamo sulla fiancata sinistra le colonne, ma anche qui a Roma non ci mancano edifici che sono polifunzionali. Il meglio conservato del nostro passato è il luogo dove sono sepolti i nostri sovrani, Savoia, è il luogo dove è sepolto Raffaello ed è una chiesa consacrata, oltre che un monumento archeologico. Questo non è solo proprio del nostro vecchio mondo, ma è un qualche cosa che troviamo anche nel Messico, perché così come i cristiani hanno fatto proprie le vestigia pagane, ugualmente hanno fatto in Messico costruendo templi sugli altari o sulle piramidi. Qui ci troviamo di fronte a una delle più grandi piramidi della Mesoamerica, quella di Ciolula, una città dedicata a Quetzalcóatl, al serpente piumato, dove Cortés forse stava per essere vittima di imboscata e fu protagonista di un tremendo massacro di Ciolultecchi, e dove sulla cima di questa piramide è eretta una chiesa. Quindi abbiamo delle realtà archeologiche che sono perfettamente integrate con il presente. Io mi ricordo la prima volta che andai in Messico nel 76, proprio sulla piramide di Ciolula, vidi per la prima volta dei danzanti con piume di pavone, era lontano 76, pensate quanto tempo è passato, che stavano in cima a questa piramide facendo delle danze sedicenti a steche. Oggi mi trovo a parlare di cose analoghe a distanza di 25 anni, anzi no, di 35 anni, da un punto di vista archeologico. Nel mondo maia questo è ancora presente, voi qui vedete delle vestigia dell'antica civiltà maia in area guatemalteca che continuano a essere oggetto di offerte da parte degli indigeni. Questo però non è un qualche cosa che riguarda il periodo postcoloniale, è un qualche cosa che era già presente in epoca diciamo preispanica, in epoca precoloniale. Già nel lontanissimo passato preispanico, pensiamo ai maia, io parlavo dei maia di oggi ma ci sono dei maia del periodo classico dal terzo secolo fino al decimo più o meno, i quali a loro volta erano i successori di grandi civiltà del loro passato, come erano per esempio gli Olmechi. Purtroppo non ho trovato su internet delle immagini che avrei voluto mostrarvi di oggetti di giada, di raffinata fattura Olmechi sul cui retro sono inscritte dei glifi e delle date maia perché i maia riutilizzavano oggetti di antica fattura al loro precedente. Spesso, già stato detto nelle conferenze di Davide Domenici e di Sergio Botta, le popolazioni che sono venute dopo i Teotihuacani hanno guardato con estremo rispetto e con grande interesse a questa civiltà e ne hanno in certa misura riutilizzato, vuoi la produzione diretta, vuoi il lascito stilistico, culturale e via dicendo, spesso facendo dagli emblemi di questo passato delle insegne di prestigio, di autorevolezza, di potere. Tutta l'arte, l'iconografia, la scrittura, quel complesso sistema di segni che noi continuiamo a non saper decifrare bene se essere pittura o scrittura, di cui così acutamente ci ha parlato Davide Domenici, è spesso al servizio del potere, è spesso al servizio della legittimazione dello status delle persone che occupano posizioni di privilegio. E gli Astechi, che sono gli ultimi arrivati nel mondo mesoamericano, cronologicamente parlando, loro sono arrivati nell'altopiano centrale nel XIII secolo sostanzialmente e, essendo gli ultimi venuti, hanno avuto il problema di legittimarsi e nel legittimarsi hanno cercato di costruirsi, vuoi mitologicamente, ma vuoi anche attraverso il riuso di stilemi iconografici e insegne e via dicendo, una sorta di nobiltà, una sorta di autorevolezza attraverso legami dinastici, attraverso matrimoni e via dicendo e nel fare questo hanno attinto anche al passato teotihuacano. Voi in questa mostra avete una splendida maschera teotihuacana che poi i mescini dica o Astechi hanno rielaborato facendoci un mosaico di turchesi e quindi facendone un'insegna di prestigio. Quindi noi ci troviamo di fronte a una continua rivisitazione, riappropriazione, risignificazione e rifunzionalizzazione degli elementi del passato, che è propria del mondo mesoamericano. Anche i primi archeologi che si sono cimentati nello scavo delle grandi strutture architettoniche di teotihuacano hanno rinvenuto su queste strutture tracce di pratiche cultuali, religiose, molto stratificate, che non si sa bene. Per esempio si dice che Batres ha trovato negli angoli dei tre grandi ripiani della piramide del sole dei bambini seppelliti, ma sembra che questi bambini, seppure lui li ha trovati, non fossero appartenenti alla cultura teotihuacana, ma fossero probabilmente di epoca successiva. Ecco quindi che ci troviamo costantemente di fronte a un riuso delle vestigia indigene. Questo, come vi dicevo, regolarmente avviene in area maia a finalità interne, proprie, di persone che appartenendo alle civiltà, che discendono da questi primigeni autori dei manufatti che ci sono arrivati, li continuano a usare perché appartengono al loro territorio. A volte si tratta di mammozzi abbastanza informi, come questa pietra che voi vedete venerata accanto a delle croci da questo maia del Guatemala, a volte invece si tratta di strutture magari un po' più importanti che vengono riutilizzate in occasioni, vuoi, cultuali locali, vuoi anche di, come dire, più esplicito coinvolgimento della popolazione meticcia, delle autorità politiche locali, eccetera. Qui nella Sierra di Puebla dove io lavoro, per esempio, ci sono delle belle piramidi coeve a Teotihuacan, ma della cultura del golfo, quello che viene chiamato il Tajin, dove si riuniscono in determinate occasioni una serie di figure politiche locali per determinate cerimonie e si fanno danzare gli indigeni e si rimette in auge anche uno spazio archeologico che viene in questo modo valorizzato. Quindi osserviamo che le tracce archeologiche, da noi come altrove, sono state spesso utilizzate a fini celebrativi, di legittimazione, di vicende che sono a noi contemporanei. Basti pensare all'attenzione che si è prestata nella nostra Italia del ventennio al passato romano, ma senza finalità in un regime certamente meno totalitario di quello fascista. Guardiamo, per esempio, alle recenti vicende boliviane dove il neoeletto presidente Evo Morales ha pensato bene di fare la sua toma de possession, la sua investitura, non certo una scesa al trono, ma comunque una presa di potere di un indigeno davanti ad altri indigeni, dove l'ha voluta fare l'ha fatta a Tiahuanaco, che è un grande centro del periodo intermedio, tardo, andino. Quindi un po' posteriore a Teotihuacan potremmo dire coevo dei toltechi. Quindi vedete questi riusi costanti. Questo in Messico non succede, Teotihuacan non è il luogo dove il presidente della Repubblica va a fare la toma de possession, ovviamente. Però non è che in Messico il passato archeologico non abbia contribuito e non contribuisca ancora oggi a definire l'identità politica della nazione o i simboli. Diceva prima il nostro ospite che io sono stato insignito, e ne sono molto riconoscente, dal governo messicano dell'onorificenza che il Messico dà agli stranieri che si sono in qualche misura distinti nel valorizzare la cultura. Che cosa mi hanno dato? L'aquila asteca, che è una meravigliosa medaglia dove c'è su un fondo di turchese un'aquila che ha nel becco un serpente. Ed è questo il simbolo che noi troviamo di Tenochtitlan, cioè della capitale dell'impero asteco, che troviamo nel codice Mendoza, che è un documento pittografico che è stato redatto nel Cinquecento per ordine del figlio del vicere, poi mandato in Ispagna, adesso si trova in Inghilterra, ma da questo emblema, che è l'emblema della capitale dell'impero asteco, poi è sorto l'emblema, lo scudo nazionale del Messico. Ecco che troviamo la stessa identità messicana come nazione autonoma rispetto alla Spagna di cui il Messico era solo una propaggine coloniale fino agli inizi dell'Ottocento, fino esattamente a 200 anni fa, non a caso adesso siamo sforati nel 2011, ma la celebrazione di Teotihuacan, della mostra di arte, di rivoluzione, di fotografie rivoluzionari eccetera, celebra i 200 anni dell'indipendenza del Messico, come si è indipendentizzato il Messico, affermando una propria specificità, che non era di criollos, di creolli nati in Messico, ma era di creolli che però si identificavano con un glorioso passato storico, glorioso, imperiale se vogliamo, archeologico e quindi in certa misura asteco. I centri archeologici dunque sono spunto per la costruzione di simboli nazionali, sono non luogo di cerimonie pubbliche, politiche, anche se poi in fondo il palazzo presidenziale a Città del Messico, dove Cortez ha costruito la sua sede, sta là dove stavano gli edifici dell'elite governante mexica, però ci sono tutta una serie di diverse compagini sociali che insistono, che ruotano, che utilizzano i centri archeologici per proprie finalità le più diverse, possono essere di tipo commerciale, possono essere di tipo turistico, possono essere di tipo hobbistico, io girando su internet, molte delle immagini che vi mostrerò sono scaricate da internet e vedete nel 2009 c'è stato un motor show per l'equinozio a Teotihuacan, l'anno scorso c'è stato il Festival Internazionale dell'Ossidiana, notate la data, è sempre intorno all'equinozio di primavera e quindi ecco che noi vediamo che Teotihuacan è viva, se non il centro archeologico, comunque l'emblema, l'icona di Teotihuacan pulsa di richiami che vengono costantemente recepiti e utilizzati da diverse persone e noi vediamo che per esempio a Teotihuacan, ogni tanto, ma tutti i giorni nel Socalo, cioè nella piazza centrale di Città del Messico, ci sono gruppi di sedicenti astechi o discendenti di astechi che danzano balli astechi, io mi ricordo qualche anno fa ero nel mio studio qui all'Università La Sapienza, hanno bussato alla porta, è entrato un giovane padovano che è venuto, lei il professor Lupo? Sì, ah venivo da lei per chiederle se vuole collaborare a questa iniziativa in difesa del popolo asteco, io tra secolati ho detto mi sembra tardiva come difesa, non so se possiamo arrivare ancora in tempo, no dice il popolo asteco è vivo, ah davvero mi dica e questo mi ha spiegato che c'era un gruppo di astechi, di sedicenti astechi che faceva una tournée in Europa facendo delle danze per raccogliere dei fondi per istruire il popolo asteco ai valori della stechità e chiedeva il mio aiuto e chiedeva di poter usare l'aulamagna della sapienza, io gli ho spiegato che non ero io il sovrano dell'aulamagna della sapienza e che mi risultava che il sistema di istruzione pubblico in Messico funzionasse e che quindi non ci fosse bisogno della sovvenzione dei privati italiani perché venissero istruiti i bambini messicani, già mi diceva lui, ma vengono istruiti secondo modelli egemonici nazionali e non secondo i modelli dell'astechità, ecco quindi che ci troviamo di fronte a una pluralità diciamo di gruppi e di identità che si contendono la legittimità all'occupazione di spazi tra cui anche quelli del Socalo, ma non solo del Socalo, questa foto che io ho fatto di altri neo-astechi un po' più dark è pratta davanti al Museo Nazionale di Antropologia, cioè uno dei luoghi dove le massime icone non architettoniche, bensì plastiche, bensì iconografiche della indianità passata sono conservati e davanti a queste realtà uno si comincia a interrogare chi sono questi neo-indios, beh sono tanto, adesso forse sono offensivo nei loro confronti e se qualcuno di loro fosse presente probabilmente mi aggredirebbe dicendo che sono un mistificatore, ma mi sentirei di dire che sono tanto astechi quanto voi e me, perché di fatto culturalmente, linguisticamente eccetera sono dei piccoloborghesi urbani che parlano spagnolo, che fanno il contabile, il ragioniere, a volte anche il professore di università e che riscoprono sui libri nei loro contesti associativi cittadini questa astichità un po' libresca e un po' di fantasia. Non sono certo indigeni nel senso di portatori di una discendenza diretta, vuoi, cromosomica, certo ne hanno di cromosomi indigeni, ma sono fortemente mescolati, ma soprattutto culturalmente non sono delle persone che parlano nahuatl che vivono nelle comunità dove i molti milioni di indigeni messicani ancora vivono. Succede a volte che però questi neo-astechi si spingano fino nelle comunità indigene alla ricerca di una indianità, non dico più autentica perché loro la loro autenticità non la mettono in discussione, ma forse più spontanea, forse più ruspante e quindi vadano, a me è capitato anni fa di tutte le volte che vado in Messico assisto a alcune delle performance più tradizionali tra cui la danza del palo volador che è una manifestazione coreutica sicuramente di antichissima derivazione. Beh, pochi anni fa, questi sono indigeni, diciamo, nahuatl che parlano nahuatl, che parlano linguasteca, che sono cristianizzati e qui sono davanti alla cappella di San Martín Tepetitan, l'11 di novembre dell'88, che fanno la danza del palo volador. Pochi anni fa a Quezzalan mi sono trovato di fronte dei ragazzotti vestiti di piume con delle maschere di legno che si sono arrampicati sul palo volador dopo altri gruppi di indigeni e come autentici voladores astechi con delle ali fatte di piume, quindi con dei costumi tutt'affatto diversi da quelli degli indigeni che praticano la danza del palo volador, mezzi nudi con delle specie di perizomi, alla fine si sono lanciati, ma meno pratici, degli indigeni che fanno questa cosa, pian piano quello di sopra non faceva girare bene il quadrato e si sono tutti avviluppati contro il palo e sono finiti in una specie di gomitolo umano contro il palo con gli altri indigeni volador e sveri da sotto che sghignazzavano guardando i loro imitatori come goffamente li avessero imitati. Una delle caratteristiche di questi gruppi di neo-indios che spesso assai più che attenersi alla conoscenza filologicamente corretta delle civiltà indigene si ispirano a ideologie più globali, più di stile new age, una delle loro caratteristiche è appunto di essere composte di meticci, meticci urbani che non vivono la propria indianità quotidianamente ma che la vivono part time in determinati momenti del giorno, in determinati giorni della settimana o in determinati momenti del calendario annuale. E cosa caratterizza questa indianità riscoperta? Come alcuni degli studiosi che se ne sono occupati, se vi posso dare un riferimento bibliografico, un libro molto interessante su questo tema, l'ha scritto il mio amico Jacques Galinier assieme a Antoinette Molinier, è un libro che parla dei neo-indiens, le neo-indiens, una religione del terzo millennio, sta per uscire a breve, una religione del terzo millennio e parla di neo-indios in Messico e nelle Ande. E loro cosa notano in questa neo-indianità? Che è una forma di tradizione inventata di rottura, di rottura verso cosa? Con la storia ufficiale, considerata una storia coloniale, egemonica, di oppressione e di mistificazione. E quindi del tutto disattenti a quelle, diciamo, fondatezze storiche che noi accademici ogni tanto difendiamo. Non gliene importa niente che l'accademia li smenta, che l'accademia dica che non c'è fondamento storico, archeologico e via dicendo, a quello che viene detto. Loro si ritengono appunto in contrasto, si considerano alternativi, antisistemi. Sono contrari ovviamente alla politica ufficiale, sono contrari a questo capitalismo della produzione e dello sfruttamento che così fortemente caratterizza la nostra contemporaneità. Per questi gruppi molta dell'ispirazione viene da un incontro con i filoni New Age. Non c'è attenzione al dogma, non c'è attenzione alle ortodossie, c'è molta più individuale scoperta, ricerca, costruzione del sé e della propria tradizione. L'individuo ha acquisito una grande autonomia, nella definizione dei propri orizzonti di senso, potremmo chiamarli così, è protagonista di una sorta di bricolage religioso, dove si combinano fantasiosamente e in assoluta libertà e elementi di provenienza la più diversa da quelli preispanici, delle religioni amerindiane alla spiritualità orientale. Vedremo come ci sono incontri col buddismo molto forti a Teotihuacan, culti neopagani europei, neosciamanesimo, tutto in una cornice globale e soprattutto panamerindiana. Si fanno grandi incontri ecumenici dove si incontrano eschimesi o inuit, mapuce indiani dell'area amazonica e vari gruppi indigeni delle Ande e del Messico. Ci si trova di fronte dunque a una ricostruzione di una religiosità in cui ogni individuo è centro della propria spiritualità, in grado di farsi il ricettacolo del divino, un divino che spesso è identificato con la natura, con questa sorta di grande cuore pulsante che è la madre terra, una madre terra che può rievocare in certa misura quella raffigurata anche negli affreschi da Teotihuacani, questo almeno loro credono di poter rinvenire, è pensata attraverso l'idea di energia, di vibrazioni, vibrazioni positive, cosmiche, che non solo investono ogni singolo individuo mettendolo in armonica relazione con tutto il cosmo, ma che hanno luoghi di flusso privilegiati, alcuni dei quali sarebbero stati individuati dagli antenati, sarebbero stati il luogo dove questi hanno edificato le loro grandi capitali, i loro grandi centri e in questi luoghi competerebbe agli iniziati odierni di riscoprire e riattivare queste realtà. Sempre in internet ho trovato questa immagine che combina la piramide di Giza e la grande piramide di Teotihuacan. Di questi diversi movimenti neo-indios che sono sorti in Messico negli ultimi decenni, non pochi in Teotihuacan vedono una specie di porta cosmica dove si debbono realizzare attività rituali collettive di grande impatto, specie in alcuni momenti calendariali e in questo non poca influenza ha avuto la grande auge che l'archeoastronomia ha avuto negli ultimi tempi studiando appunto il nesso tra le conoscenze calendariali, astronomiche e le capacità di realizzazione urbanistica e architettonica dei popoli misoamericani che spesso allineavano i loro edifici secondo degli assi ben precisi, secondo dei traguardi che permettevano di osservare sull'orizzonte determinati eventi astrali e via dicendo. Di quel passato glorioso i neo-indios si sono costruite una versione decente, presentabile, compatibile con i valori della modernità che sono diffusi e che difficilmente possono essere rinunciati anche da chi vuole riastechizzarsi. Tra questi valori il rispetto per l'ambiente è uno dei primi, la tolleranza, l'egualitarismo, la solidarietà, lo spirito di servizio per la comunità, la raffinatezza intellettuale, una grande sensibilità spirituale e il rifiuto della violenza. Questo ovviamente per chiunque conosca con un minimo anche una spolverata di diciamo conoscenze storiche il passato delle popolazioni mesoamericane non sempre è facile perché questa rilettura altera abbastanza quelle che sono le caratteristiche di un mondo che era sì straordinariamente evoluto sul piano tecnologico, culturale, che era capace di realizzazioni artistiche di straordinaria efficacia e con una cifra personale originalissima, ma al loro interno certo non erano egualitarie, anzi avevano delle disparità di censo, di potere, di accesso alle risorse enormi e c'era anzi, come spesso succede nelle società di centralizzazione incipiente, una straordinaria monopolizzazione dei simboli del censo, degli emblemi del prestigio. C'era una grandissima attenzione a quelle che erano le insegne dello status, il loro uso esclusivo e oltretutto erano società che non erano affatto così ecologicamente sagge come noi pensiamo. Se qualcuno di voi ha visto quel raccapricciante polpettone che è Apocalipto, un film ispirato a Collasso di Jared Diamond e che descrive una parabola su Imaia che vuole parlare di noi nel nostro presente autodistruttivo, nel nostro rapporto con l'ambiente, beh, Imaia sono una delle grandi civiltà del mondo preispanico che certamente hanno fatto un pasticcio ecologico, perché hanno fatto collassare, non sarà stata questa l'unica ragione, ma certamente hanno tirato fino all'estreme conseguente un ecosistema che non hanno saputo gestire ecologicamente. Al di là di questo poi c'è altre conoscenze che vengono valorizzate come possono essere appunto la medicina, questo è il codice babbiano in cui vengono raccolti dei dati erboristici che risalgono al passato antico e che vengono anche a volta mitificate. Voi vedete ancora oggi nel Soccalo persone come voi e come me che vanno da questi neo-indios a farsi fumigare e a farsi prescrivere delle cure sedicenti preispaniche. Si dice di voler costruire una sorta di solidarismo ecologico, di anticapitalista, si sostiene una sorta di monoteismo panteista in cui le varie manifestazioni dell'unica divinità, questa specie di madre terra che molto facilmente viene nell'area andina individuata con la pacciamama, si identificherebbe con una delle manifestazioni di questa grande divinità cosmica che si riverberano nel sole, nel vento, nell'acqua, fino alla morte, al tempo, tutti variamente associati a quelle che erano le divinità del passato preispanico ma rielaborate. Per esempio nell'adattamento della cosmologia precolombiana elaborato da uno dei movimenti neo-indios che significativamente si è denominato Movimento Confederato Restauratore della Nahuac, la Nahuac era il mondo come si definiva al tempo degli Astechi, ciò che è completamente circondato dalle acque, per questo gruppo esistono il dio, l'antico dio del vento e della creazione, Quetzalcoatl, sarebbe l'intelligenza cosmica, quello scuro, sovrano dei destini umani che è lo specchio fumante Tescatlipoca, sarebbe la memoria, Michistli, la morte, sarebbe la vera medicina, il dio eponimo degli Astechi, il colibri sulla sinistra, Huitzilopochtli, sarebbe la forza di volontà e via dicendo. Soprattutto quello che viene grandemente edulcorato, minimizzato, quando non del tutto negato, che cosa può essere? Ovvio, il sacrificio umano. Quella pratica che noi troviamo rappresentato non in maniera così esplicita nelle vestigia teotihuacane, qui abbiamo un manoscritto già di epoca coloniale, il codice magliabecchiano, dove la raffigurazione è molto cruenta, ma si riferisce al periodo asteco, ma anche nel mondo teotihuacano, voi qui vedete un sacerdote che ha un coltello di ossidiana in cima al quale c'è un cuore sanguinante. E questa bellissima statua che avete di là è di un prigioniero che verosimilmente è stato sacrificato lanciandogli contro delle frecce, una sorta di San Sebastiano teotihuacano. Quindi, diciamo, il sacrificio umano era una pratica certamente presente, anche se forse non nella scala demografica così consistente come ce l'hanno raccontato i cronisti, ed era presente in tutte le civiltà della Mesoamerica. Per i neo-indios è una pratica rotondamente negata, assolutamente esclusa. La si accampa anzi come una delle grandi mistificazioni della menzogna coloniale, come la giustificazione della conquista, come la ragion d'essere dell'oppressione coloniale spagnola che è stata inventata per poter conquistare, per poter opprimere. E presso non pochi dei negazionisti che si sono variamente cimentati nello smentire le testimonianze archeologiche, iconografiche, storiche, cronachistiche, dei sacrifici, si è arrivati ad equiparare le, per loro, menzogne sul sacrificio umano ai miti delle pasque di sangue degli ebrei raccontati dai cristiani per giustificare le persecuzioni. Si è arrivati a dire che appunto gli Astechi erano non meno vittime di quanto lo fossero stati gli ebrei di una mistificazione di questi perfidi cristiani oppressori che volevano conculcare il mondo amerindiano. Un mondo che certamente era difficile da comprendere, che era abbastanza repulsivo, se un antropologo in anni recenti come Marvin Harris ha denominato gli Astechi il regno dei cannibali, perché sembra che ritualmente gli Astechi, dopo aver sacrificato delle persone, soprattutto alcuni in determinate circostanze, poi ne consumassero le carni. Cosa succede di questi neoindios a Teotihuacan? Vediamolo brevemente. In alcune ricorrenze calendariche, come appunto in particolare l'equinozio di primavera, convergono in moltitudini eterogenee, al loro interno sono molto sfaccettati, articolati, ci sono movimenti diversi, c'è la mexicanidad, c'è il movimento confederato, ci sono i conceros, ci sono i rechinos, cioè i discendenti di quella figura romanzesca che è la protagonista dei romanzi di Velasco, Regina, e si riuniscono per compiere rituali dal complesso significato che combina concezioni dei popoli preispanici molto rimaneggiate. Una delle più celebri fonti è appunto la saga di Regina, scritta da Velasco, Antonio Velasco Pigna, in cui si racconta come questa figura storico-mitica, Regina è una donna che sarebbe stata uccisa nel massacro di Tlatelolco il 2 ottobre del 68 e che avrebbe lasciato appunto un lascito di spiritualità di recupero preispanico ai suoi adepti e, come vedete in questo libro, non è solo un libro, ma c'è anche, non è solo una narrazione, ma c'è anche, qua in basso, include la guida per l'ascensione sacra. A cosa? Alla grande piramide di Teotihuacan. Perché? Perché la grande piramide di Teotihuacan, Regina, avrebbe detto essere una di queste porte cosmiche, chiusa, i cui sigilli andrebbero aperti. E vi cito brevemente un pezzo di questo libro in cui Regina avrebbe detto questo è il luogo dove si fondolano energie cosmiche e telluriche. Quando venga rotto il sigillo si proderrà una fiamma invisibile che irraggerà la propria luce verso i quattro angoli del mondo. Coloro che desiderino entrare in contatto con questa luce non avranno bisogno di venire a Teotihuacan, come adesso noi facciamo, ma potranno farlo mentalmente, visualizzando questa luce e sintonizzandosi in qualche modo con essa, con l'energia che sgorgerà continuamente dalla piramide. Secondo, per contribuire all'apertura di questi sigilli collegati alla piramide, sempre nella narrazione di Velasco, a Teotihuacan sarebbe addirittura giunto negli anni 80, il 3 luglio dell'89, il Dalai Lama, il quale avrebbe contribuito in maniera minimalista, attraverso atti quasi impercettibili, di sigillare uno di questi sigilli alla base della piramide, per permettere all'energia di convergere verso il punto culminante che è la cima della piramide, il centro della medesi. Senza eseguire apparentemente nessun cerimoniale, con la stessa naturalezza e mancanza di solennità con cui si infila una chiave nella serratura e la si fa girare aprendo la porta, il Dalai Lama ruppe il sigillo che durante oltre mille anni era esistito alla base della piramide del sole. Alcune parole mormorate sommessamente ed alcuni rapidi gesti fatti con le mani che passarono del tutto inavvertiti permisero che l'energia che irradia dal cuore della piramide potesse fare il primo passo del suo lungo cammino verso la cuspide, verso l'apice della piramide. Su queste premesse voi capite che è facile, come in certe date, Teotihuacan si trasforma in un luogo emblematico per rappresentare e coagulare le istanze identitarie dei più diversi attori sociali. In occasione del quinto centenario della scoperta dell'America, il 12 ottobre del 1992, che in Messico viene solitamente chiamato il giorno della rassa, alludendo a quella sorta di razza cosmica che Vasconsello pensava essere la congiunzione delle diverse genti che si incontrarono nel nuovo mondo, ma che i neo-indios non vogliono chiamare il giorno della razza, ma il giorno della sovranità dei popoli della Nahuac, a Teotihuacan, quel giorno del quinto centenario, conversero indigeni di regioni tanto lontane come gli Inuit, Eschimesi e i Mapuche del Cile, a fare, che cosa? Un rituale preispanico come il bagno di vapore, il Temascale. Qui a Teotihuacan, perché Teotihuacan è vista, come ci dicono Galinier e Molinier, come un crocevia spirituale delle Americhe indigene. Uno dei leader di questi movimenti, Tlacaelel, Francisco Jiménez, rinominatosi Tlacaelel, leader del movimento della mexicanità, dice le visioni solari di Teotihuacan, queste sorte di percezioni di radiazioni solari che si congiungono con le emanazioni telluriche, sono le stesse per i tutti popoli del continente. La mexicanidad è universale. Sembra uno simoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti questi gruppi perseguono un ideale pan-indiano. Le declinazioni locali, Asteche, Mapuche, Inca e via dicendo, sono solo delle manifestazioni diverse di una realmente unica indianità, una spiritualità che tutti li affratella. Teotihuacan, con le sue piramidi, che impropriamente sono state intitolate al sole e alla luna, forse quella del sole ancora, ma quella della luna è stata chiamata della luna in epoca tardo-coloniale, non abbiamo nessuna certezza che all'epoca dei Teotihuacani gli fosse dedicata, e così una specie di omphalos, di ombelico, di centro cosmico, di catalizzatore della quintessenza cosmica. Nell'equinozio del 2002, tra 800.000 e un milione di persone, si sono radunate in una sorta... Oddio mio, dove sono finito? Scusate, sono saltato di grandemente indietro. Si sono riuniti in quello che Galinie chiama una sorta di picnic cosmico, a Teotihuacan, per ricevere le vibrazioni di questa sorta di hierogamia, di questa sorta di amplesso sacro, per divenire loro stessi conduttori del coito sacro tra la terra e il sole, facendo penetrare le vibrazioni buone nel proprio corpo, nei sette punti fondamentali in cui si concentrano la pace, la saggezza e la salute. Questo non è un neo-indio, ma è mio figlio che imita i neo-indios che stanno in cima alla piramide a fare... lo vedete, ce n'è uno in fondo a sinistra e lui li imita. Ci sono raduni di neo-indios variamente, questo addirittura è una sorta di boomerang in mano, vestiti con piume di fagiano, che certamente non erano oggetti. Le immagini sono brutte, ma sono significative perché appartengono a quella ricca iconografia che si può reperire su internet. Bene, mi avvio a concludere. Abbiamo visto tutte queste immagini. Una cosa che a me colpisce, sarà che sono un etnologo, sarà che lavoro con gli indigeni, è che in tutta questa variegata umanità che si concentra nella città del Messico, intorno al Socalo e via dicendo, o a Teotihuacani, quelli che solitamente si sogliono chiamare indios o indigenas, non ci sono. Mancano. I veri... So che è del tutto improprio da antropologo parlare di indige. Fatta la salva di quegli sporadici membri delle etnie, i mapuce, gli eschimesi, forse qualche rappresentante più politicizzato delle comunità indigene. Gli indios non ci sono. I discendenti culturali più, diciamo, diretti di questo passato preispanico. Eppure questi esistono, continuano a praticare loro atti rituali, continuano a parlare le lingue del lontano passato, eppure, fino a poco fa, sembrano esclusi dalle logiche neoindie. Anzi, direi che forse questa loro assenza dà così ampio margine di creatività, di libertà, di invenzione, eccetera, a questi neoindios. Però Teotihuacani non è ignota agli indigeni veri. Anzi, all'inizio del Novecento, un grande antropologo messicano, Gamio, fece proprio una ricerca molto ben integrata, linguistica, culturale, storica ed archeologica, sulla popolazione della valle di Teotihuacan. E attorno alle piramidi di Teotihuacan c'erano fior di indigeni che eseguivano le loro attività agricole, coltivando su i monumenti preispanici e conservando una cultura nawa. Il problema è che gli indigeni di oggi nulla più sanno del culto alla divinità pluviale, così come viene raffigurata nel passato preispanico. Non venerano più il serpente piumato, non sanno più neanche chi sia, se voi glielo menzionate. Venerano Gesù Cristo, lo portano in processione la settimana santa, sono devoti di San Michele Arcangelo, che forse reinterpreta come il sovrano del fulmine, ma è pur sempre un santo cattolico. E quindi sono stati evangelizzati, cristianizzati. Nella loro tradizione orale, il ricordo delle grandi civiltà precolombiane è quasi scomparso. Però se voi oggi andate a chiedere e Teotihuacan? E Quetzalcoatl? Vi può capitare, come è successo a me, tre anni fa, di essere andato a richiedere a un mio vecchio informatore, Miguel Cruz, vi anticipo un tema che tratterà magistralmente tra due settimane Alfredo Lopez-Austin, il grande mito di creazione del sole e della luna, che proprio a Teotihuacan ha luogo per gli Astechi. Questo mito, o meglio una sua rivisitazione moderna, me lo raccontò nell'85 Miguel Cruz, un mio informatore Asteco, o meglio, Nahuatl, cristiano, cattolico, anche se cattolico a modo suo, che mi raccontò come tanti anni fa c'era un giovane che doveva, erano al buio e dovevano fare il sole. Allora ho deciso di fare una gran falò e di chiedere a qualcuno di buttarsi nel fuoco per trasformarsi in sole. E la persona che si doveva buttare era un signore che disse sì, però prima fatemi salutare i miei parenti. E siccome aveva un numero di parenti molto ampio, ci mise molto a salutare tutti questi parenti. Nel mito antico, vi racconterà Alfredo Lopez-Austin, la sua ricchezza non è sociale, ma è di giada, di corallo, di oro, di oggetti suntuari. Presso gli indigeni di oggi, dove l'oro scarseggia, la ricchezza sono i rapporti sociali. E dunque questo attardato texistecat di oggi si attarda a salutare compari, zie, cugini e parenti. La fiamma si sta spegnendo. E allora gli altri dicono rischiamo di avere un fuoco tenue, un sole spento. Tu, Manuel, che sei orfano, buttati un po' nel fuoco, visto che non hai nessuno da salutare, così facciamo prima. Manuel si getta nel fuoco e sorge a Gerusalemme, non più a Teotihuacan, come sole. E da allora il sole, Cristo, illumina il nostro mondo. Ecco dunque un mito certamente sincretico, certamente rimescolato, che nell'85 Miguel Cruz mi ha raccontato in spagnolo. Due anni fa, essendo ancora vivo e vegeto, Miguel Cruz, e avendo io imparato che i miti non vanno raccolti in lingue piggini, in lingue di intermediari, ma vanno raccolti nella lingua nativa, ho chiesto a Miguel se me lo raccontava. Miguel si è assolutamente rifiutato e mi ha detto perché si è alzato, ha tirato giù questo foglietto da una cartellina di plastica e me l'ha consegnato. Che cos'è questo foglietto? È un foglietto ciclostilato che il Vescovo di Puebla gli aveva consegnato qualche mese prima in un laboratorio di teologia indigena in cui si ragionava sui miti creazionali astechi. E cosa sono questi miti, questi laboratori di teologia indigena? Sono delle iniziative che una parte della Chiesa Cattolica oggi mette in atto in un processo di neo-evangelizzazione degli indigeni che dopo il Concilio Vaticano II recupera ciò che fino a pochi decenni fa invece conculcava e cercava di cancellare. Si tratta di un revirma, un rovesciamento radicale dell'approccio pastorale e teologico della Chiesa che anziché vedere nelle vestigia del passato preispanico le tracce di un paganesimo satanico e perditore degli indigeni come si faceva in epoca coloniale si vede invece in queste forme che per certi versi e soprattutto nelle riletture teologiche che vengono fatte da questi sacerdoti possono in qualche misura assomigliare a passi delle sacre scritture a sacramenti a valori a atti liturgici del cattolicesimo vi si vede l'opera dello Spirito Santo vi si vedono i logoi spermaticoi i semi del verbo che operano nelle culture e che dunque rendono perfettamente compatibili col dettato cristiano post conciliare quello che viene fatto degli indigeni ecco che dunque l'atteggiamento pastorale di questi sacerdoti porta a fare un'attività in cui si recuperano questi semi del verbo ci si riflette criticamente sopra si riadottano simboli del passato preispanico per esempio nell'occasione della celebrazione del giubileo nell'anno 2000 nella chiesa di Quezzalan è stata cementata nel transetto della chiesa questa lapide che riproduce il cosmogramma della prima pagina del codice Feservari Maier in cui al centro c'è un sacrificato anzi scusatemi al centro c'è Schuchte Kuchtli il dio del fuoco verso cui confluiscono i flussi di sangue di un indigeno sacrificato e questo Schuchte Kuchtli al centro è stato sostituito dalla croce di Cristo con le cinque colombe del giubileo sono stati recuperati dei testi del passato classico Nahuatl come per esempio i poemi di Nesawalcoyotl il grande sovrano di Tescoco che scriveva dei poemi come questo che si chiama non finiranno i miei fiori non finiranno i miei canti io li elevo sono solo un cantore si spargono si diffondono ingialliscono i fiori sono già portati via nella casa delle piume dorate sono recuperati anche i nomi ieri sua santità Benedetto XVI si lamentava del fatto che i bambini non vengono più chiamati con dei nomi di santi a Quetzalán il giorno o meglio il mese della canonizzazione di San Juan Diego in suo nome il parroco di Quetzalán ha pubblicato questo libretto di nomi nahuatl perché i bambini potessero essere battezzati con dei nomi nahuatl e quando io una specie di Ratzinger antelitteram gli sono andato a dire ma padre Erminio e poi i bambini non avranno un loro santo patrono lui mi ha risposto come ha detto ieri Ratzinger e beh tanto mica se si chiamano Suellen o se si chiamano Shakira o se si chiamano coi nomi che mi chiedono c'hanno un santo patrono allora tanto vale che si chiamino Ehecat Nesawalkoyot o addirittura Coatliquen vedete dunque che c'è un recupero di questo antico passato tra cui anche miti come quello dell'origine del sole e della luna a Teotihuacan che viene visto fatte le dovute differenze come una versione indigena del sacrificio di Cristo questo Dio fattosi uomo che si immola per gli altri uomini e che risorge come astro luminoso a irradiare la sua grazia sul mondo in questa chiave assume un significato del tutto nuovo cristologicamente reinterpretato anche il sacrificio umano praticato dagli Astechi perlomeno in quella peculiare forma delle vittime che incarnavano il Dio i cosiddetti Isciptla la sua pelle il suo rivestimento che erano ritenuti degli esseri umani degli ombre dioses come li ha chiamati Alfredo Lopez Austin in un famoso libro del 1973 dei ricettacoli umani in cui la divinità si incarna per un certo periodo calendariale fin tanto che quell'incarnatore della divinità come il Dio che è morto e si è immolato per rinascere e rinvigorito vengono uccisi vengono sacrificati e vengono dunque gli viene permesso di rinascere nella lettura che viene fatta dai sacerdoti della teologia india di questo mito e di questa diciamo così teologia questa pratica sacrificale viene reinterpretata come una sorta di anticipazione del modello del sacrificio di Cristo mi dice in un'intervista del 86 del 90 no del 2006 uno di questi sacerdoti così come Dio si è sacrificato per noi come abbiamo visto a Teotihuacan quando lui parla di Dio sta parlando di Nana Watson identificando in Nana Watson uno dei nomi di Dio il Dio dei cattolici così come lui si è sacrificato anche noi intendendo gli Astechi lo faremo affinché egli per noi continui un'altra epoca ci faccia continuare il nostro mondo la nostra era allora questo era un sacrificio per il quale si gareggiava pensa e per questo tu dovevi conoscere la filosofia dovevi conoscere la teologia dovevi aver ricoperto diversi incarichi e dovevi essere stato vincitore nel gioco della palla in questa prospettiva di recupero della spiritualità e della religiosità preispanica sempre entro una cornice di verità cristiana ovvio resa possibile dall'apertura teologica all'inculturazione del Vangelo che è stata postulata dal Concilio Vaticano II i principali luoghi di quel passato diventano sede di attività religiose cattoliche dei veri propri luoghi di ritiro spirituale in cui preti indigeni e non catechisti e fedeli indigeni selezionati vengono portati si riuniscono a celebrare meditazioni e rituali io qui ho partecipato nel 2008 a un rituale in una comunità non in un luogo archeologico dove come vedete al mattino si mette un incensario con delle pannocchie di mais al centro e poi si fa una sorta di quadrato con acqua l'aria non si poteva e allora si sono messi dei fiori quello non mi ricordo questo è terra e quello sarà fuoco no? i quattro elementi e le quattro direzioni cosmiche si trae ispirazione si riflette sulla propria tradizione religiosa valorizzandone il lascito e traendone ispirazione ci dice uno di questi leader della corrente pastorale della teologia india noi andavamo a Teotihuacan andavamo a Kakastla andavamo al Tahin con tutto il gruppo dei fedeli di questa nuova corrente teologico pastorale che è la teologia india per poter sempre avere un riferimento con quello che noi chiamiamo la teologia india fondante cioè le tracce monumentali emblematiche iconograficamente percettibili del pensiero teologico delle genti preispaniche perché lì nell'architettura è plasmata non unicamente la cosmovisione ma anche vi è plasmata la religione ed ovviamente nella loro logica si tratta di una religione totalmente compatibile col cristianesimo con questi brevi e ovviamente superficiali sketch che si può fare in un'ora di un problema così complesso sugli usi che oggi si fanno di Tuyotihuacan e di tanti altri importanti luoghi del passato da parte delle diverse componenti sociali e culturali della società messicana ho cercato di mostrare questo inesauribile ventaglio di impieghi interpretazioni appropriazioni di cui è suscettibile il vastissimo patrimonio culturale non dimentichiamo che tra l'altro il Messico ha un patrimonio culturale più che trimillenario dunque abbonda la materia prima su cui interpretare reinterpretare visitate questa mostra e vi accorgete di quanto strabiliantemente ricco sia questo passato da etnologo avendo un compito che consiste prevalentemente nel comprendere ed eventualmente nello spiegare nella misura del possibile i fenomeni che osservo ma non nel giudicarli da dei piedestalli etici estetici morali e via dicendo in realtà non mi importa tanto se queste interpretazioni che vengono fatte siano corrette siano storicamente documentate siano filologicamente sostenibili siano argomentativamente coerenti quello che mi interessa è cogliere dal vivo osservando le realtà di cui alcuni spunti visivi vi ho dato la straordinaria e imprevedibile fecondità di quella prerogativa che è solo della nostra specie umana che consiste nel conferire significato a tutti i più diversi aspetti della realtà e come se visto attraverso questa ampia e inevitabilmente sommaria un po' confusa carrellata dei significati che sono stati dati e che ancora oggi si danno a Teotihuacan e che certamente si continuerà a dargli nel futuro in chissà che modi nuovi e bizzarri lo spettro delle possibilità di dare un senso a Teotihuacan è amplissimo direi quasi inesauribile vi ringrazio questa slide finale non vuole essere un'esibizione di un mia adesione ideologica ai contestatori dell'uso e dell'abuso di Teotihuacan ma voleva mostrarvi che non è tutto rosa e fiori e non tutti sono d'accordo con questi usi che vengono fatti va bene quindi togliamo questa immagine che può sembrare polemica e vediamo se c'è qualche domanda io volevo avere un'idea dei numeri quanti sono questi filmati che vanno a parlare dei numeri sono come tutti da noi che fanno la lingua che vanno a parte degli acquedotti a fare gli antichi romani o pochi folkloristici sono sicuramente forse folkloristici sono tanti come le dicevo io non ci sono stato a Teotihuacan in questi eventi epocali non voglio immaginare quanti ce ne saranno all'equinozio di primavera del 2012 voi ve lo immaginate il 2012 alle porte il 2012 è Maya non è Teotihuacano ma in fondo il calendario mesoamericano quello era beh a Teotihuacan nel 2012 milioni di persone ci andranno ma nel 2002 Jacques Galinier dice che c'erano tra 800.000 e un milione di persone vestite di bianco con le braccia alzate o facendo le più diverse attività rituali a ricevere vibrazioni cosmiche adepti simpatizzanti self-made Aztecs non so come chiamarli persone che comunque incospicui e crescenti numeri e non solo dal Messico ma anche dall'Europa anche dall'Asia anche da tante parti del mondo si identificano e il problema è che in questo nostro mondo così effervescente e plastico le forme di definizione identitaria non sono più imposte da autorità egemoni che dicono tu sei dentro o sei fuori dalla mia confraternita ma sono basate spesso sull'autodefinizione che su un eclettismo di adesione che porta le persone a andare a messa la domenica ma poi il venerdì se è equinozio andare a Teotihuacan con le braccia alzate io volevo dire che incoscientemente ho partecipato una volta forse era il 2003 o il 2004 non mi ricordo c'era moltissima gente ma poi quando uno è lì sinceramente se ne accorge che questo non dovrebbe succedere perché tanta gente lì già normalmente ci va la domenica ad esempio la gente ci va perché le piace andare cioè come andare non lo so a Villa Borghese cioè la settimana scorsa i miei ci sono andati perché è naturale andare no? non so perché perché è bello andare ma quel giorno lì dell'Echinoccio è impressionante e secondo me io non sono un esperto ma distruggiamo quello che c'è probabilmente non so se possiamo dire che è come andare a Villa Borghese perché Teotihuacan è un centro monumentale ma molti di quelli che ci vanno ci vanno io quando ho fatto adesso non per esibire nuovamente mio figlio ma quando ci sono stato quel giorno che dell'anno scorso che ci siamo trovati a Teotihuacan con non era un giorno di equinozio ma sulla cima della piramide era pieno di gente con le braccia alzate a guardare a ricevere le vibrazioni cosmiche e questo era un qualche cosa che apparteneva non a una normale frequentazione turistica di un luogo archeologico ma era una frequentazione anche religiosa di un luogo che ha questa valenza composita e che è fruibile vedete non per riesibirvi mio figlio ma dietro in cima alla piramide ci sono persone con le braccia alzate ed era un adesso non mi ricordo se 18 agosto una cosa del genere ed era un giorno infrasettimanale ci si va e ci si identifica con un passato la cui spiritualità si pensa abbia intriso e continua a intridere ad animare quelle poche pietre che diventano vive nella misura in cui ci sono persone che le rendono vive significative attraverso la partecipazione attraverso questa diciamo adesione collettiva a una condivisione io ho apprezzato di questo libro e dei pochi altri testi che sono stati scritti su queste realtà così bizzarre del nostro presente il coraggio di occuparsi di temi antropologicamente guardati con grande sospetto da parte dei nostri colleghi quando le prime volte e non paglia mancanza di rispetto per un maestro sommo che verrò ad ascoltare con venerazione tra due settimane ma quando ho raccontato di queste pratiche neoindie fatte dai sacerdoti non quelle dei neoindios che ben conosceva Alfredo Lopez Austin Alfredo Lopez Austin ha fatto facce di dispitto fastidio e irritazione profonda perché le considerava una sorta di svilimento e sorta di come dire non lo so tradimento di quella che è la più pura tradizione preispanica un po' come se noi vedessimo delle persone vestite da sacerdoti che vanno a fare su Ove Taurilia al Campidoglio dove che sia i centurioni che vediamo davanti al Colosseo ci sembrano degli autentici romani no ovviamente ma non lo fanno con ragioni religiose invece Teotihuacan così come il Socalo così come il Templo così come il Museo sono invece dei luoghi vissuti con una certa partecipazione con una certa spontaneità con una certa una cosa mi ha colpito tempo fa parlando con Eduardo Matos Moctezuma lui ci aveva fatto quattro anni fa no sei anni fa una bella relazione al convegno che abbiamo fatto quando c'è stata un'altra magnifica mostra quella sugli Astechi spero che alcuni di voi abbiano visto anche quella nel 2004 e ci diceva come la prima volta che è stata trovata la statua di Quatlique quella mostruosa statua di donna con collana di cuori mani e con la testa mozza e due serpenti assonagli le cui teste si divaricano formando una sorta di sanguigna testa umana mostruosa quando venne trovata quella immagine nel centro di Messico nel 1790 gli indigeni gli indigeni che ancora popolavano città del Messico andavano di nascosto a lasciare offerte di candele e fiori davanti a questa immagine tanto che i religiosi la fecero riseppellire e quando nel non mi ricordo che anno ma credo 1802 arrivò Alexander von Humboldt e volle conoscere la fece ridisseppellire perché quelli l'avevano riseppellita perché faceva paura beh ogni tanto al Museo Nazionale di Antropologia capita ai custodi di vedere delle offerte ancora lasciate davanti a quell'immagine perché evidentemente c'è ancora chi indio vero o indio reinventato in quelle immagini vede delle icone degli emblemi degli oggetti degni della propria sincera venerazione io non credo che noi come antropologi siamo minimamente autorizzati a giudicare e a storcere il naso su questi usi forse impropri che si fanno e quanto al consumo delle vestigia sì un milione di persone che ci passano può darsi che siano effettivamente come uno stormo di cavallette ma sono più devastanti degli stormi di italiani giapponesi nordamericani eccetera che vanno e magari prendono la pietruzza perché vogliono portarsi un pezzo di Teotihuacan io non credo di me te lo dico in spagnolo perché se non mi amazano mi amole due preguntas due preguntas todo ese sincretismo che si ve in questi nuovi gruppi hacia dove va e tu come antropologo hacia dove lo ves e che opinion tiensi di Carlos Castaneda in su relazione in su scritto che come antropologo ciertos o no trabaja con indígenas rispondo invertendo l'ordine della domanda perché Carlos Castaneda in certa misura è un po' uno dei padri di questi movimenti non che questi movimenti siano sorti dopo Castaneda anzi diversi di loro sono sorti parecchio prima però Carlos Castaneda con i suoi grandi con le sue grandi narrazioni con i suoi mi verrebbe dire i suoi grandi romanzi più che le sue etnografie perché tolto il primo teachings of don juan gli altri certamente non sono etnografie ma sono delle grandi fiction delle grandi e sapientissime e affascinanti invenzioni di esperienze diciamo psichiche spirituali eccetera ispirate al mondo indigeno certamente non derivate da esperienze realmente vissute con gli indigeni tutti gli antropologi che hanno lavorato con gli indigeni con quegli sciamani alla don juan che Castaneda dice di aver conosciuto orripilano di fronte ai testi di Castaneda se presi come etnografie quando lui mette virgolette e cita enunciati di don juan è chiaro che inventa però inventa sulla base di una molto attenta conoscenza del mondo indigeno che rinasce e rivive trasformato quando io mi trovo a studiare gli indigeni messicani diciamo più autentici quelli della Sierra di Puebla e studio degli indigeni che rispetto a quelli più autentici ancora cioè quelli del prima conquista sono una scimmiottatura non meno orrenda di quanto questi neo-indios siano rispetto agli indigeni ma delle radici del loro passato attraversano tutti questi gruppi e tutti se ne appropriano in modi diversi nessuna cultura nessun modello culturale religioso eccetera rimane adamantino soprattutto in società dove questi modelli non hanno una codificazione scritta di libri canonici per di più rivelati quindi ciascuno si può appropriare liberamente di tradizioni che fa proprio dove vanno non lo so dove vanno non credo si possa prevedere se mi avessero detto quando io ho cominciato ad andare in Messico nel 76 che ci sarebbero stati un milione di persone nel 2002 sulla piramide di Tuttehuacan non avrei mai immaginato ma neanche avrei mai immaginato che avrei visto in una chiesa di Quetzalan fare una lapide dove c'era il codice Fescher-Varimeier o sentirmi raccontare da un sacerdote che ha diciamo così santificato la chiesa della comunità di cui era parroco permettendo ai suoi indigeni di sacrificare un tacchino nel pavimento di questa chiesa non l'avrei pensato nel 76 dopo è stato possibile forse non lo sarà più a breve però insomma il mondo è bello perché ci smentisce qualsiasi previsione e ci mostra quanto appunto feconda sia l'inventiva umana non so se no c'è ancora qualche minuto grazie